Accade a volte che la propria morte racconti molto, moltissimo della propria vita. Danilo Abbruciati, figura di punta di quel magma che era la malavita romana prima e della banda della Magliana poi, muore a 38 anni. Lui, romano da Roma, viene ucciso a Milano il 27 aprile 1982, mentre si trova sul sellino posteriore di una motocicletta, ucciso da una guardia giurata con un colpo in testa. Dopo aver sparato e ferito ad un gluteo, il vicepresidente del Banco Ambrosiano, Roberto Rosone.